La rassegna stampa di Le Fonti Legal TV, l'appuntamento mensile che racconta le novità legislative con interviste in esclusiva, dossier redazionali, approfondimenti e dibattiti in studio attraverso la rassegna di Legal, rivista numero uno degli avvocati. L'unico programma televisivo che monitora il mercato legale, con le classifiche degli studi legali più attivi nelle principali practice. M&A, Banking & Finance, Employment, Capital Marketing, Energy, IT, TMT, Media, pubblicate anche su Il Sole 24 Ore. Chi salirà in cima alla classifica? Chi perderà terreno? Lo scoprirete qui, su Le Fonti TV. Non mancate, vi aspettiamo.